Ok, si è aperto. ...dotto libero. ...metro dall'acqua, senti ancora, penna in acqua sta caricando, penna sotto di noi sulla verticale, poi puoi salire, penna fuori dall'acqua. Ok, provo a stare. Ok, 5 aggancio. 3, 2, 1 ora. Aggancio. ...dotto dove abbiamo sparato prima, no? Si, ma è spento però. Affermativo, dobbiamo scendere nella parte sopra, a scendere. ...dotto verso valle, dobbiamo fermare. Ok, magari lo fai in leggera panina. Ok. Provo. Ok, mantieni questa... ...destra... ...e proceda allo sgancio. ...dotto. 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 Grazie a tutti